Procediamo con la presentazione dei vari circuiti. Qui abbiamo ponte raddrizzatore e trasformatore alimentatore a 12 volt. Qui invece i tre rele adibiti alla carica dei condensatori, limitata dalle quattro resistenze di potenza posizionate su dissipatore fissato qua sotto. Passiamo ora ai circuiti di pilotaggio azionati da pulsante e fotorelevatori posizionati qui. E qui. Per ultimi i circuiti di trigger degli SCR costituiti da un semplice triac. Come indicatore di carica completa ho optato per una semplice e minimalista dot bar. Per quanto riguarda la carica dei proiettili abbiamo questo un po' rude meccanismo che, anche se a scatti, fa il suo dovere. I due interruttori sono per L e alimentazione generale. Per la carica. Questo è tutto, procediamo con qualche sparo. Per la carica della carica. Per la 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 carica. Grazie a tutti.